Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti e spero che tutti stiate tranquilli e rilassati e godervi una bella giornata di sole, qui anche bello, bello fresco. Ho appena terminato di caricare le mie pipe, poiché ho visto che diversi amici in Facebook preparano le proprie pipe e poi usano lo scotch, usano altri materiali, ho deciso di svelarvi il mio segreto nel preparare le pipe mie della giornata. Ora, questa è l'ultima che sto preparando, uso il Dome Pack, ovviamente le pipe devono essere belle asciutte, non possono aver fumato poco prima, perché sennò sarebbero umide e si rovina. Con il Dome Pack il tabacco si mantiene bello fresco ed ecco pronta la pipa per la giornata, ma non è che ne preparo una sola, perché ecco tutte le pipine pronte pronte per essere fumate oggi, tutte nel proprio Dome Pack. Oh, chiaramente non sono pipe massimamente bellissime, perché io le prendo per quelle che piacciono a me, poi magari non piacciono a tutti. Amo fumare il sabbiato, amo fumare il rusticato, perché è leggerissimo. Spero di avervi svelato qualcosa di bello. Ciao ciao, buona domenica a tutti!